Piano straordinario di controllo del territorio nell'area di Torra Annunziata, 860 tra persone e mezzi controllati, 31 le sanzioni per armi, droga e violazione al codice della strada. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha pianificato negli ultimi giorni, su disposizione del prefetto di Napoli Marco Valentini, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica, diverse operazioni ad alto impatto nei rioni a maggiore densità criminale della città di Torra Annunziata. I controlli hanno riguardato in particolare il quartiere Peniniello, la zona centrale, piazza Sant'Alfonso, piazza Embriani, l'area portuale, via Terragneta, ex zona De River, la zona sud e il rione Poverelli. In particolare i baschi verdi del gruppo di Torra Annunziata, supportati dai colleghi del gruppo pronto impiego di Napoli, hanno eseguito nell'ultima settimana 860 controlli a mezzi e persone, 31 le situazioni illecite rilevate, tra denunce all'autorità giudiziaria e segnalazione alla prefettura, per armi, droga e violazione al codice della strada. Sequestrate diverse decine di grammi tra cocaina, hashish e marijuana. Nel corso delle attività di perlustrazione è stata anche sequestrata un'arma a giocattolo alla quale era stato tolto il tappo rosso di sicurezza, occultata sotto la ruota di scorta in una carcassa di autovettura abbandonata. Gli interventi rientrano nel quadro delle costante attività di prevenzione generale e di controllo economico del territorio, svolto dalle fiamme gialle partenopee anche in sinergia con le altre forze di polizia, al fine di contrastare fenomeni di illegalità diffusa nell'area di Torra Annunziata, che resta oggetto di massima attenzione da parte dell'autorità di governo e delle forze dell'ordine.